Benvenuti, signore e signori. Portarvi in un mondo fantastico. Popolato da personaggi bizzarri e mitologici. Conoscerete creature straordinarie. Capaci di imprese memorabili e stupefacenti. E niente è come sembra. E' un'esercitazione. Io vedo la prossima. Questo figlio e tre Yamalami sono la nostra unica speranza. Ho il Hitler! Si è convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. E il suo regalo per Hitler? Un pugno di supermobili con lui al comando. Io come faccio senza sete? Non ci ha separato nessuno. Manco la guerra. Guarda che ha confinato! Io non ammazzo nessuno. La guerra è guerra. Falli fruttare sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione. Nooo! Nooo! Noi senza Cicco siamo solo una banda alle volte! Drei Männer! Un ragazza! Un ragazza. Un ragazza. Tu sei speciale, Vinci. Tu hai un dono.